Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Rispondendo ad alcune richieste degli utenti del forum di Studio One, eccoci qui a mostrare un tutorial sull'utilizzo e quindi sull'esplorazione di alcune delle future messe a disposizione da Studio One in combinazione con Melodyne. In questo caso specifico utilizzeremo Melodyne Studio. Vedremo poi in un altro tutorial come poter utilizzare la versione più light che viene regalata insieme a Studio One, ossia il Melodyne Essential. Studio One mette a disposizione un sistema, una tecnologia innovativa chiamata ARA e che consente ai plugin di terze parti che sviluppano un motore esterno di poter essere integrato direttamente all'interno di Studio One. Come accade per Melodyne è necessario ad esempio selezionare la traccia di voce, andare nel menu audio e cliccare Edit with Melodyne. In questo modo la traccia verrà automaticamente trasferita nella finestra di Melodyne senza necessariamente dover passare dall'analisi in tempo reale della traccia audio come avviene su tutte le altre Do. Come vediamo infatti troviamo immediatamente la voce trasportata all'interno della traccia. Allarghiamola per poterci lavorare più comodamente. Stringiamola e quindi raggiungiamo un rapporto di visualizzazione più congruo in maniera da poter visualizzare meglio tutti quelli che vengono chiamati in gergo Bulbs, ossia questa specie di bolle che noi vediamo e che vengono poi rappresentate con delle alterazioni ondulatorie. Melodyne come vediamo individua la nota che viene cantata in questo caso i Mi, Mi bemolle, Sol, Mi con alcune inflessioni che si muovono all'interno della nota stessa per cui la nota cantata effettivamente è quella che viene mostrata in queste sezioni mentre le onde mostrano l'oscillazione che la nota e quindi che la voce esegue sulla nota per poter arrivare alla prossima nota e successiva. In questo caso sto utilizzando la voce di Giorgia Igliozzi registrata per un demo e fortunatamente essendo una cantante brava non dovrò ricorrere ad artefazioni estreme. In linea di massima ascoltiamo questa sezione. In questo caso è una M che viene cantata su tre note. ascoltiamola da solo, mettiamo in solo la traccia di voce. In linea di massima potrebbe già andar bene così quindi normalmente questo genere di movimenti vocali vengono lasciati inalterati proprio per mantenere un certo aspetto emotivo all'interno dell'esecuzione. Proseguiamo sulla prossima sezione dove troviamo appunto invece la parte cantata. In questo caso abbiamo delle note abbastanza stabili quindi il re che viene spesso cantato all'interno della parte melodica che possiamo migliorare rispetto a quanto stato eseguito. Attenzione l'esecuzione è comunque molto buona quindi non necessariamente non è necessario quindi doverla intonare ulteriormente ma per essere e quindi per dimostrare l'utilizzo di Melodyne cercheremo di spiegare al meglio le funzioni contenute all'interno dei menu. Come dicevo Melodyne segue appunto la tempo track impostata nella Do e quindi le nostre note verranno mostrate sulle misure eccole qui 8 e 9 che ritroviamo proprio all'interno della Do stessa. Infatti se noi andiamo ad allargare la finestra della Do ci troviamo esattamente negli stessi punti e il nostro cursore è agganciato. Esiste un sistema di intonazione automatico molto rapido che comunque non garantisce un'eccellente performance o tantomeno non ci permette di avere un'intonazione molto dettagliata e viene attivato semplicemente attraverso questo menu il correct pitch macro dove possiamo appunto scegliere il pitch center delle note e il drifting che ora vi andrò a spiegare. In alternativa sapendo che la traccia si trova in tonalità di re maggiore possiamo far creare uno snap to re maggiore in maniera che tutte le note che verranno incontrate all'interno dell'esecuzione rimangano nella tonalità di re maggiore. Questo potrebbe essere utile potrebbe non essere utile qualora ci fossero delle alterazioni delle note blues o delle scale particolari che non stanno in tonalità di re maggiore. Nel mio modo di lavorare cerco di non utilizzare questa funzione per cui selezioniamo tutte le note clicchiamo sulla macro e spostando il pitch center noteremo come tutte le note verranno automaticamente allineate a una griglia armonica portandola fino a un 100%. Il pitch drifting che vediamo qui all'interno ci permette di far sì che le alterazioni all'interno della nota vengano più o meno appiattite in questo modo tutto risulterà più meccanico. Ascoltiamo. Molto quadrato molto piatto. Riduciamo un po' il pitch center per evitare che sia troppo fake ed il drifting lo togliamo perché lo aggiusteremo manualmente. Quest'altra icona fa sì che tutte le note che sono state cantate possano essere appunto quantizzate in base al taglio che noi preferiamo scegliere qui nel group quantizing. Ovviamente sulla voce non è consigliato perché spesso appunto l'emotività viene a mancare proprio quando tutte le note sono estremamente sincronizzate sul click. Molto utile invece nei momenti in cui dovremmo ad esempio sistemare una batteria o dei loop sulla batteria. Lo vedremo in altre lezioni. Proseguendo nei menu abbiamo la possibilità di scegliere la visualizzazione a track mode come stiamo facendo ora clip mode o note assignment mode. In questo modo vediamo un sistema di visualizzazione suddiviso sulla griglia in modo da poter scegliere di salire o scendere in base ai semitoni ma torniamo a lavorare sul track mode. Nella prossima sezione di tools troviamo appunto l'icona di selezione questa che troviamo per poter selezionare le note all'interno di Melodyne. Lo scroll tool per poterci muovere all'interno della traccia e il magnifying ossia lo zoom per poter ingrandire o stringere le tracce e renderle quindi più semplici da individuare. Il pitch tool è quello più utile e che utilizzeremo molto più spesso all'interno di Melodyne perché ci permette di manipolare in maniera molto dettagliata le note e quindi la parte cantata. È suddiviso in tre tipi di pitch tool quindi abbiamo il primo pitch tool, il pitch tool modulation, il prossimo è il formant tool. Ci servirà per poter modificare la formante della nota stessa quindi rendere più o meno gutturale un suono per cui schiarirlo o scurirlo in maniera più naturale all'interno della nota stessa. L'amplitude che serve invece per alzare o abbassare il volume di una nota. Il time tool per poter lavorare sulla lunghezza quindi lo stretching della nota stessa in maniera da poter stringere o allargare in base alla griglia poi la parte cantata. L'attack speed che ci permette di selezionare la velocità di attacco della nota utilissimo qualora voressimo stringere ad esempio delle S ed infine il note separation tool che utilizzeremo per separare le note all'interno della modulazione della nota stessa. Vedremo poi come utilizzare. Allora vediamo subito come funziona le funzioni di editing principale. Questa nota in re in realtà viene modulata attraverso altre note. La nota infatti parte dalla diesis, si sposta verso re, scende leggermente verso il do diesis, risale verso il re e poi riscende infine verso il diesis. In realtà quindi sono quattro note all'interno della nota stessa, ossia la modulazione della nota. Noi possiamo con il separation tool in questo caso dividerle e quindi cliccare due volte dove si trova la separazione della nota per rendere ancora più precisa la possibilità di intonazione di questa sezione. Ad esempio vogliamo che non ci sia una inflessione verso il centro e quindi selezioniamo questa parte di note e le intoniamo alla stessa altezza. Sentiamo il risultato. Stesso discorso nella nota successiva. Permission, la i sale leggermente rispetto al re, che non è sbagliato ovviamente ma noi per rendere tutto più meccanico lo separiamo. Quindi per capire come funziona Melodyne, facciamo sì che la nota sia più definita, spostandoci tutto nella sezione in alto. Molto più piatto, molto più meccanico, però è il sistema che viene utilizzato per correggere alcune note all'interno della nota stessa, quindi della modulazione. Vediamo come funziona il drift, ossia all'interno della nota c'è una modulazione più piccola data dall'emissione della voce per cui una parte sarà intonatissima, un'altra leggermente crescente e poi una parte leggermente calante. Questo andamento può essere corretto con il pitch drifting, quindi cliccando all'interno vediamo che queste differenze si abbassano. Ora la nota risulta un po' più gutturale, quindi potremmo attraverso, come vi dicevo prima, il formant tool schiarirla. Successivamente possiamo limitare ancora di più il vibrato, ad esempio. Qui abbiamo ancora una parte dove le note subiscono una variazione che ovviamente ci porta al di fuori dell'aspetto armonico. Manualmente possiamo anche spostarle e poter raggiungere poi l'intonazione. Sentiamo questo vibrato, molto bello tra l'altro, ma possiamo ulteriormente limitarlo, ad esempio. Quindi con il drift facciamo in modo che sia un po' più dritto e con il pitch modulation tool possiamo toglierlo o renderlo assolutamente meccanico, come accade spesso in alcuni tipi di arrangiamenti moderni. Torniamo nella nostra posizione originale con Mela Z. Ovviamente la presenza delle S va limitata con un Deesser all'interno del mixer. In questo caso sto usando soltanto un piccolo compressore ed un riverbero per dare il senso della stanza alla voce. La voce è stata in in questo caso registrata con un microfono Ribera R251 e un preamplificatore Ribera. Anche questa parte possiamo, ad esempio, renderla tutta più piatta portandoci nella sezione macro e spostando al centro soltanto le note Re. Sentiamola all'interno del mix. Quindi apriamo il mix. Non ho bisogno di riuscire, ho fatto una decisione per testare i limiti. Perché è il mio business, Dio è un testo, è quello che ho finito. Non ho bisogno di prendere, prendere controllo di questo momento. Sono bloccato e concentrati, completamente concentrati, la mia mente è open. Melodyne lavora in modalità non distruttiva, per cui la nostra forma tonda rimane inalterata all'interno e possiamo poi renderla stabile cliccando sul render qui in basso dove l'evento FX trasformerà la traccia appena intonata in una traccia audio senza dover pesare sul processore e quindi mantenere aperto Melodyne. Potremmo comunque tornare indietro sui nostri passi e riaprire Melodyne nella stessa configurazione. L'altra caratteristica interessante di Melodyne è di Studio One che trasforma immediatamente la traccia audio in traccia MIDI. L'abbiamo già visto in un altro tutorial. Aggiungendo una traccia Instruments, la chiameremo Vox, sarà necessario e semplice draggare la traccia audio sulla traccia MIDI in modo da avere direttamente le note MIDI di tutto il cantato. Spero che questa velocissima lezione su Melodyne vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio nei corsi online dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao a presto! Ciao a presto!